I primi 12 articoli della Costituzione italiana raccolgono i principi fondamentali, cioè le basi su cui si fonde lo Stato disegnato dalla Carta Costituzionale. Il dodicesimo e ultimo di questi principi recita, la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali d'uguali dimensioni. Perché tra i principi fondamentali si è dovuto aggiungere questa definizione della bandiera? Per capire l'articolo 12 dobbiamo tornare indietro, un viaggio ritroso di 150 anni. Dobbiamo superare le Alpi e arrivare a Parigi. È il 12 luglio del 1789 e a Parigi tira aria di fuoco. Due giorni dopo, con la presa della Bastiglia, la storia del mondo sarebbe cambiata. In quel 12 luglio, davanti alla folla parigina, il rivoluzionario Camille de Moulin chiede ai manifestanti quale colore sarebbe stato il simbolo della rivoluzione prossima a scoppiare, se il blu della rivoluzione americana oppure il verde della speranza. I manifestanti scelsero per la seconda opzione. Poco importa che il giorno successivo la scelta cambiò, sostituendo il verde e il rosso e il blu dato che il verde era il colore del re azionario Conte d'Artois, futuro re Carlo X dopo la restaurazione. Poco importa, almeno per la nostra storia, perché le gazzette italiane dell'epoca confusero le carte, riportando la notizia di un tricolore francese bianco, rosso e verde. I venti rivoluzionari così passarono le Alpi e anche in Italia comparvero i primi manifestanti con indosso coccarde, bianche, rosse e verdi. Dalla coccarda tricolore, che ancora oggi è simbolo dell'aeronautica militare ma la si vede anche sulle magliette di chi vince il campionato di calcio, il passaggio alla bandiera richiese qualche anno. I primi vessilli tricolori, bianche, rosse e verdi, comparvero quando Napoleone scese in Italia per la prima volta. Erano tricolori i vessilli esposti sul comune di Cherasco, poi sostituiti dalle bandiere francesi, così come le bandiere militari della legione lombarda. Il tricolore, bianco e rosso e verde però, divenne per la prima volta un vessillo nazionale nel 1797. Quella bandiera era ben diversa da come la conosciamo adesso. Era a bande orizzontali, con al centro le foglie d'alloro, le iniziali RC e la faretra con le frecce, simbolo della città del congresso cispadano, Modena. Quando nel giugno le due repubbliche napoleoniche, quella cispadana e quella transpadana furono unite e nacque la Repubblica Cisalpina, essa raggiunse una forma a noi più nota. La bandiera della nazione cisalpina è formata di tre bande parallele all'asta, verde, la successiva bianca, la terza rossa, recita la delibera del Gran Consiglio della Repubblica Cisalpina. La bandiera in questa forma però dura poco. Col passaggio alla Repubblica Italiana prima, tra 1802 e 1805, e successivamente al Regno d'Italia napoleonico, il tricolore a bande fu sostituito da un quadrato a fondo rosso, con inserito al centro un rombo bianco, a sua volta contenente un quadrato verde. Poi però Napoleone cadde, venne la restaurazione e il tricolore fu dimenticato. Non da tutti. In moti del 1830-31 fu il patriota Ciro Menotti, a sostenere che l'Italia Unita avrebbe dovuto essere una monarchia costituzionale con capitale Roma e con il tricolore come bandiera. E' così che da Mazzini alle Cinque Giornate di Milano i tricolori ricomparvero. In 1848, anno di rivoluzioni, portò a tricolore e a sventolare in gran parte della penisola. Nel Regno di Sicilia, la bandiera nazionale divenne il tricolore con al centro la Trinacere. Nel Granducato di Toscana, la stessa cosa ma con al centro lo stemma Granducale. E nella Venezia Repubblicana, il Leone di San Marco spiccava in alto sinistra. Ma è nel Regno di Sardegna che il tricolore avrebbe trovato maggior fortuna. Carlo Alberto di Savoia, infatti, lo adottò come vessillo, ponendo al centro lo scudo sabaudo. E questa bandiera avrebbe accompagnato le vicende della Prima Guerra d'Indipendenza. Avrebbe viaggiato fino in Crimea col corpo di spedizione Sardone nel 1856. Quindi, negli anni successivi, avrebbe avvolto l'Italia Unita che stava nascendo. Questo tricolore è la bandiera del Regno d'Italia, quella con lo scudo sabaudo, quella che si trova nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, che fa da sfondo al proclama lanciato da Gabriele D'Annunzio sulle teste dei viennesi in occasione del volo su Vienna. Paradossalmente, però, la sua ufficialità come bandiera nazionale del Regno giunse proprio quando il suo ruolo passò in un certo senso in secondo piano. Era il 24 dicembre 1925, quando fu approvata la legge 2264. Il tricolore, nato come simbolo di libertà e diritti civili, diventava ufficiale proprio nel momento in cui era comprimario nelle grandi manifestazioni dominate dei simboli del regime fascista. In ogni caso, i tricolori accompagnarono gli eventi festosi del ventennio, dalle traversate oceaniche ai due mondiali di calcio vinti nel 1934 e nel 1938, ma non salutarono con entusiasmo l'ingresso del paese in guerra il 10 giugno del 1940. Passarono tre anni e con l'armistizio due tricolori simili nell'aspetto, ma diversi negli intenti, cominciarono a sventolare sull'Italia. Da una parte c'era la bandiera di guerra della Repubblica Sociale, con al centro l'aquila romana che impugna il fascio littorio. Dall'altra parte, invece, il vestillo del Comitato di Liberazione Nazionale. E così, che arrivate alla fine della guerra, la storia della bandiera si trova di fronte a un nuovo bivio. Stava nascendo un'Italia nuova, l'Italia repubblicana, e i padri costituenti erano chiamati a stabilire la nuova bandiera ufficiale dal momento che non c'era più posto per lo stemma Sabaudo. In un primo momento, la commissione preposta alla redazione del testo, la commissione dei 75, si interrogò su uno stemma da porre al centro della bandiera, dove avevano già trovato posto la Croce di Savoia, la Trenacra siciliana, la Stella del CLN e l'Aquila di Salò. Poi però, presero un'altra via. La commissione si pronuncia intanto per il tricolore, puro e schietto, semplice e nudo, quale fu alle origini e lo evocò e lo baciò 50 anni fa al Carducci, e così deve essere la bandiera italiana. Queste parole sono del presidente della commissione, Meucci Ruini. Il 24 marzo del 1947, 150 anni dopo la Repubblica Cisalpina, l'Assemblea Costituente inserì nel testo costituzionale l'articolo 12, la bandiera della Repubblica e il tricolore italiano verde, bianco e rosso, a tre bande verticali d'uguali dimensioni. E' un lungo viaggio. E' una storia fatta di migliaia di persone, una storia fatta di libertà, una storia fatta di ideali. E' tutto portato a questa semplice definizione, a questo principio fondamentale. e' un lungo viaggio.